Nella seconda domenica senza Dionigi il Taranto fa visita alla Provercelli. In panca siede ancora Giampaolo Spagnullo che dirige un undici di verso per cinque undicesimi rispetto a quello sconfitto mercoledì sera lo Iacovone dalla Ternana. Fuori Colidi, Deo, Antonazzo, Sabatino e Girardi, dentro di Bari, Sciaudone, Garufo, Russo e Guazzo. Non c'è Chiaretti squalificato. Parte bene la Provercelli già al secondo, pericolosa con un contropiede di Di Piazza, il cui sinistro sul primo palo termina sul fondo. Il Taranto risponde al quinto con Rantiebbe, lanciato da Guazzo, ma il passaggio in mezzo per Russo è troppo debole e favorisce il ritorno della difesa di casa. All'ottavo la prima sostituzione, la opera è tecnico vercellese Bragin, costretto a rinunciare a Di Piazza, infortunato, al suo posto dentro il vivace Tripoli. E comunque il Taranto a tenere viva la fiamma del gioco e l'undicesimo all'occasione più ghiotta del primo tempo. Giorgino centra da destra per Guazzo, sponda per la corrente Rantieche di sinistro al Voro Mila, è l'incrocio più vicino, ma Valentini si supera e devia in corner. Taranto ancora pericoloso al ventiduesimo con Schaudone, che da fuori prova il destro, Valentini non trattiene ma recupera sulla corrente Guazzo. Il centravanti dimostra di essere davvero in gran forma, al ventiseesimo però su errore del Taranto la prova Ercelli rischia di passare, Garufo perde palla sul rilancio di Bremec, Tripoli prova la conclusione al volo, ma ancora Bremec è attento e respinge la conclusione. Al termine del primo tempo il Taranto vince ai punti, ma lo 0-0 contifatti sembra giusto. Nella ripresa in campo gli stessi 22 che hanno concluso la prima frazione. A cavallo tra quindicesimo e sedicesimo accade l'episodio più discusso della gara. Mischienere a rosso-bru su punizione di Di Sabato, Bremec respinge male creando qualche imbarazzo alla difesa che riesce a spazzare in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Prosperi in elevazione, tocca la palla con le mani, disturbato nella circostanza da un attaccante piemontese. Sono vibranti le proteste dei padroni di casa che chiedono il penalty, ma l'arbitro punisce l'azione di disturbo assegnando la punizione al Taranto. Provercelli ancora pericoloso al ventiquattresimo con la botta di Murante dai 25 metri, ma Bremec c'è e respinge. Nella ripresa giocano più i piemontesi, l'attacco del Taranto scompare progressivamente. Al venticinquesimo allora dentro Girardi e fuori Guazzo, mentre Braghini si gioca la carta a malatesta al posto di Iemmello e proprio quest'ultimo al ventisettesimo di Tessa non riesce a sfruttare un bel cross di Murante. Finisce 0-0 con il Taranto che centra il secondo pareggio a reti bianche del campionato dopo quello di Sorrento. Stavolta le recriminazioni sono decisamente meno, con l'assenza di Chiaretti in campo e di Dionigi in panchina l'importante era dimenticare il K.O. contro la Ternana e riprendere il cammino.